Le caratteristiche di questo giubbotto sono 6 tasche esterne, 2 tasche al petto che hanno la chiusura con automatico, 4 tasche al fondo, 2 sono tasche con la cerniera, come vedete sono tasche anche abbastanza profonde, e 2 sono tasche semplici. Abbiamo un discorso di una lavorazione al collo e una cerniera intera che ci permette di avere un giubbotto con la chiusura a camino. La particolarità di questo giubbotto è la lavorazione sempre del suo tessuto, quindi un tessuto veramente interessante, con questo effetto stroppicciato, come vedete le sue caratteristiche, il logo poi in spalla e la regolazione al polsino sempre col doppio automatico. Nella parte interna abbiamo un contrasto di colore abbastanza acceso, cioè questa podra gialla traforata che permette un'ottima traspirazione. Abbiamo delle tasche interne con la chiusura con la cerniera, un'altra tasca con la chiusura in questo caso a velcro e un'altra tasca con la chiusura a pattina. Questo giallo viene anche riportato poi sul contrasto delle maniche. Giubbotto e poi taglio e porti, perché noi siamo sempre una taglia avanti. Grazie. Grazie. Grazie.